ciao a tutti bentornati su Nissa ASMR anche oggi come tutti i giorni ormai lo sapete un nuovo video oggi torno con un po' di tracing e chiaramente un po' di inaudible su rivista allora leggerò intanto qualche pubblicità insomma ai vari brand inaudible poi magari vediamo se trovi un articolo che può essere già molto interessante credo di leggerlo appunto sempre inaudible se sei nuovo su questo canale io ti invito ad iscriverti se questa tipologia di video ti piace inaudible whispering appunto intanto tracing e carico video tutti i giorni se ti faccio portare il canale poi puoi anche lasciare un like ed un commento allora questa rivista è di Glamour e risale a febriare 2018 è il numero 307 allora iniziamo un po' di ti ringrazio il palo di pozo il palo di pozo palo di pozo il pio un po' uno il palo il palo il palo il pio il palo il pio il farna spartanux spartanux, spartanux, spartanux max spartanux spartanux iblos 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 burla 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 un po' di più un po' di più un po' di più un po' di più verso 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 di più chiara pure 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 pico Elisabetta fracchi 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 catarro 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 bull bull e cotille 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 morirà morirà cresce riscato 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 e poi la mia vale il 54 il 54 il 54 il 95 il si piace un ballaudino del 5 su rumu si su su Cristina Cristinate 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 del sole del sole del sole e una estrella la estrella la estrella la estrella il piede il piede il cuore il cuore qualche cuore il cuore il cuore tre comino tre comino tre comino tre comino un cuore 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 però ci sono molti rumori esterni purtroppo a quest'ora non so per quale motivo è così impossibile continuare quindi noi ci sentiamo domani con un prossimo video e se ti va divino nuovamente ad iscriverti al canale e a lasciare un like ed un commento a domani, ciao